La Digital Transformation è una grandissima opportunità. Ci permette di cambiare il modo di lavorare, di chiedere alle nostre persone di fare delle attività a maggiore valore aggiunto. Grazie all'automazione, alle tecnologie, possiamo eliminare tutto ciò che è ripetitivo e cambiare anche il tipo di competenza e di stimoli che offriamo ai nostri collaboratori. Sì, sicuramente c'è il machine learning, l'intelligenza artificiale, ma è fondamentale un rapporto umano tra le persone. Poste Italiane è una società di persone che parla con tanti clienti, che ha una forte responsabilità sociale e perciò questa forse è l'occasione primaria di parlare con una funzione così importante nelle aziende per portare un messaggio aggiuntivo, quello appunto di Poste Italiane nel Welfare. Il ruolo delle risorse umane in questo contesto, secondo me, è non lasciare indietro nessuno. Il talento si attiva, ma il talento lo troviamo in tanti luoghi diversi. Essere sicuro che la mia operazione di ingaggio come manager delle risorse umane arrivi dappertutto. Wurridge ha voluto partecipare oggi al forum delle risorse umane per testimoniare questa attenzione alle persone, ai Wurridge people e crediamo che solamente da una gestione attenta e rispettosa delle persone che coinvolga le persone negli obiettivi aziendali, l'azienda possa avere successo in futuro. Oggi il talento di una sola persona può determinare le sorti di una qualunque società che viene anche quotata e che ha uno sviluppo planetario. Quindi oggi l'umanesimo significa investire sul talento, sul talento dei singoli e i singoli possono costituire il futuro dell'impresa. Grazie mille! Grazie mille! Grazie a tutti.